ragazzi buongiorno a tutti benvenuti a questo nuovo appuntamento settimanale webinar che stiamo dedicando alle aziende e partner ufficiali dell'accademia nazionale di sabato io sono scalella armando coordinatore e moderatore dell'accademia oggi come ospite abbiamo vincenzo uno dei rappresentanti dell'azienda di latteria sorrentina ringrazio intanto il presidente per avermi fatto prima l'apertura lui non si vuole far registrare mi raccomando ragazzi mi chiedo tutti quanti voi di fare foto e scritte da pubblicare su vostri canali social tagliate sempre seguite l'accademia nazionale di sabato io vi auguro un buon webinar per quanto riguarda questa presentazione dei latticini e noi ci vediamo sempre durante il webinar e verso la fine un censo passo la parola a te buongiorno grazie buongiorno buongiorno a tutti ragazzi io sono vincenzo tampaiola svolgo la mia attività di tecnogaseare all'interno del gruppo latteria sorrentina latteria sorrentina nasce nel 1880 nasce sulla penisola sorrentina a bimonte dove la famiglia modio sin dagli inizi del 1880 faceva una raccolta latte in cui questo latte poi veniva trasformata in latticini un fior di latte e proprio ad oggi l'azienda conta la quinta generazione fatta da giovani e con un obiettivo nutrire il futuro nutrire il mondo oggi con la nostra azienda abbiamo dato ai nostri consumatori ai nostri amici pizzaioli ai nostri amici della ristorazione varie filiere di prodotti tra cui abbiamo qui presenti non so se si è riuscita a vedere bene un po tutta la filiera di latteria sorrentina presente qui sul banco chiaramente ogni prodotto ha una caratteristica totalmente diversa l'uno dall'altro una cosa importante oggi capire e classificare chiaramente i prodotti che andiamo a manipolare tutti i giorni per fare la nostra pizza e capire la tipologia di prodotto che abbiamo davanti al tagliere quando andiamo al tagliere diciamo che in grosso modo oggi esistono due tipologie di prodotti prodotti in salamoia come il fior di latte di napoli fior di latte dei monti provola dei monti e provola di napoli che sono dei prodotti che non viaggiano in acqua ma sono prodotti che quando vengono prodotti che vengono immersi nella salamoia che come l'acqua e sale quando rucite la pasta viene immerso per cinque minuti questo prodotto viene estratto fuori dal vascoine viene ancora incartato a mano e chiaramente la sapidità del prodotto resterà nella parte esterna che poi pian piano entrerà al centro del prodotto poi oltre ai fior di latte in salamoia quindi abbiamo dei prodotti in salamoia che non viaggiano in acqua ci sono i prodotti che viaggiano in acqua come il fior di latte della penisola o il cento per cento italia che abbiamo varie versioni sia in vaschetta tagliata da tre chili in base al taglio su richiesta da voi consumatori facciamo varie tipologie di taglio come il taglio julienne cubetto fiammifero e il taglio napoli che sarebbe un taglio un po' più largo e più sottile chiaramente all'estero importiamo sia vaschette da tre chili che vaschette c'è che buste da un chile e mezzo con il prodotto già tagliato pronto all'uso questo prodotto viene utilizzato molto negli eventi oppure dei pizzeoli che hanno bisogno di velocità perché magari una mole di lavoro è molto alta e quindi diamo la possibilità di un prodotto già attivo vivo per svolgere la nostra attività chiaramente nella scelta del fior di latte siccome la famiglia di latteria è abbastanza grande possiamo valutare noi prima cosa quello che vogliamo spendere per il nostro latticino e valutare quale latticino sposi meglio con la nostra pizza oltre chiaramente al fior di latte di napoli monti e eh provola di napoli e fior di latte di napoli vi ho spiegato che abbiamo il canisola e il cento per cento d'Italia che viaggiano in acqua questi prodotti vengono classificati come prodotti sale in pasta che cosa vuol dire vuol dire che questo latticino nella parte esterna non presenterà una sabidità accentuata ma la sua sabidità è al centro della massa quando andremo a tagliare il latticino il suo sale sarà al centro nel cuore del fior di latte e l'acqua per un processo smorfico serve a far sì che il sale si distribuisca omogeneamente nel prodotto chiaramente quando noi andiamo a tagliare il nostro prodotto una cosa importante come ha detto Antonio Giacomo avere una ferrara non significa vincere un campionato cioè scegliere il top di cambio sempre fior di latte di napoli o fior di latte di moto benissimo perché sia non significa essere vincenti se non vengono manipolati in un certo modo nel senso che il fior di latte quando arriva al vostro banco va chiaramente portato a una temperatura che va dai 4 a 10 gradi va tagliato una volta tagliata poi in un po' la pasta o in un recipiente dove il siero scende giù e la mozzarella rimane sopra quindi dobbiamo avere questo effetto drenante dopo il taglio del fior di latte cioè dividere il siero dalla mozzarella una volta tagliato il fior di latte va riposto in frigorifero con una pellicola chiuso perché se non viene chiusa questa vasca dove abbiamo messo il nostro fior di latte per un processo fisico tenderà ad ossidarsi con il gelo del frigo quindi tenderà a energialirsi quindi per mantenere il prodotto sempre bello vivo bianco bisogna chiaramente tagliarlo mettere una griglia di contenimento che divide il siero dalla mozzarella e ce lo fa narro sopra perché altrimenti il prodotto si ossida la provola la provola che cos'è la provola non altro che un fior di latte affumicato e noi di latteria solentina abbiamo due tipologie di affumicatura abbiamo sia una affumicatura a paglia in cui viene affumicata la provola dei monti della provola di nato e poi abbiamo una affumicatura fatta a truciolo di faggio in cui affumichiamo sia i filoni che i prodotti secchi che chiaramente anche le provole dal banco o proprio ad esempio per la pizzeria che però viaggiano in un'acqua che non è acqua della fontana ma salsetta che cos'è la salsetta è un liquido dove all'interno c'è acqua e sale quindi come abbiamo descritto prima abbiamo prodotti in sala noia che viaggiano senza acqua e il sale è presente nella parte estera prodotti in sale e in pasta che viaggiano in acqua e sale al centro del prodotto e poi ci sono prodotti in salsetta oltre chiaramente ai latticini di cui vi ho parlato abbiamo anche dei prodotti speciali che sono la burrata che noi di latteria facciamo sia una porzione da 125 o 125 per 2 chiaramente la burrata è fatta con latte di vaccino e panne mentre anche la stracciata è la stessa cosa sarebbe una burrata tritata fatta a stracciati con un'aggiunta di panna mentre per quanto riguarda le ricotte abbiamo tre tipologie di ricotte e una mousse di latte la fuscella che è una mousse di latte è fatta con un latte di raccolta campano che cos'è la fuscella è la prima bollitura del latte ed è un prodotto ricco di albuline e globuline che serve per svezzare i bambini ed è uno dei primi formaggi frischi che viene dato ai bambini quindi un prodotto sanissimo controllatissimo come tutti gli altri prodotti ma fatto con il latte di raccolta campano sia la fuscella che il frio di latte di napole che la lavora di napole oltre alla fuscella che è una mousse di latte che viene chiaramente introdotto nella pizza a finitura non chiaramente in cottura perché è un prodotto molto tenere e molto morbido quindi se abbiamo l'idea di fare un ripieno fritto con la fuscella dobbiamo amalgamarlo comunque con una ricotta un po' più tenace un po' più dura che altrimenti diventerà liquido e non si cuocerà bene il nostro ripieno fritto quindi per un ripieno io consiglio la ricotta 100% Italia che è una ricotta un po' più asciutta un po' più pronta all'utilizzo ed è una polivalente che va bene sia per prodotti da fare a forno oppure chiaramente per la nostra pizza fritta poi c'è il fior di ricotta invece che è una ricotta di prima che è una ricotta con una piccola aggiunta di banana e oltre a questa ricotta abbiamo anche un'altra ricotta che si chiama ricotta dei muti che è una ricotta che viaggia in carta chiaramente una ricotta un po' più dura e più tenace sempre di prima che cosa vuol dire prima seconda? Ci sono due tipologie di ricotta perché la parola ricotta è cotta due volte di prima sarebbe la prima bollitura e quello che ci rimane sopra del vasco e viene racconto questo siero che poi diventerà ricotta di seconda è una ricotta che ha più tenace, più granulosa, più dura, quindi più consistenza che ci aiuta poi nel fare determinate operazioni con determinati piatti tipo pannelloni, lasagna, pizza frutta perché se abbiamo una ricotta un po' troppo tenera e ricca di siero facciamo una cattiva pizza oppure serviamo un piatto troppo idratato e quindi non consistente, non compatto con la presenza del prodotto ora chiaramente oltre ai prodotti che vi ho parlato, vi ho classificato le varie famiglie di latteria solentina taglierò un fior di latte per farvi capire la consistenza e capire chiaramente come va tagliato io sconsiglio a tutti di non tagliare mai un fior di latte o con quelle macchinette elettroniche oppure con l'italia mozzarella o con le schiacci e patate perché quando avviene questo aspetto andiamo a sfibrare tutte le particelle dei latticini chiaramente una cosa importante che non ho detto in questo webinar è che la nostra azienda oggi importa questi prodotti in 66 paesi nel mondo, chiaramente grazie alla tecnica del frozen abbattiamo il prodotto a meno 26 gradi, quindi congeliamo questo prodotto e poi al momento che arriva dal cliente avviene un fattore che si chiama decongelazione del prodotto questo come deve essere fatto? Abbattiamo a meno 26, chiaramente quando vi arriva il prodotto il prodotto va immesso nel vostro frigo così come vi arriva frozen e man mano avviene la sua fase di scongelamento perché vi dico che deve stare in frigo? Perché tutti i latticini comunque devono stare conservati in una temperatura controllata che va dai 4 ai 10 gradi superati i 10 gradi all'interno di un prodotto avviene una scissione batteriologica che fa sì che il prodotto perde la sua forza con la sua struttura perde la sua cordosità, quindi la sua tenacia nel senso più duro e inizia a diventare maturo, inizia a maturare diciamo tecnicamente è come le banane che compriamo verdi e poi man mano si fanno gialle in casa nostra così chiaramente il fior di latte la banana riesce a farsi giallo perché rimane in una temperatura alta da far sì che avviene questa scissione batteriologica e il prodotto tende a moduarsi nel fior di latte per conservarlo lo dobbiamo tenere sempre ed esclusivamente nel frigo dal 4 ai 10 gradi esistono chiaramente i prodotti che hanno una chef rai lunga, dico il filone sotto vuoto di l'attera solentino e il filone di scamorza che hanno una vita all'incirca di 28 giorni mentre per quanto riguarda i tristi, i tristissimi abbiamo prodotti che hanno una scadenza a 5 giorni e prodotti che hanno una scadenza a 12 giorni chiaramente sempre tenendoli in quella catena del freddo che non deve mai rinchiare specialmente in estate i prodotti tendono facilmente a deperissi e a diventare acidi ora vi taglierò un fior di latte di Napoli e ora vi taglierò un fior di latte di Napoli chiaramente io ve lo taglio per farvi capire che oltre a questo prodotto diciamo come vi ho fatto dire nel video ci sono le vaschette che facciamo varie tipologie di tagli taglio pubblico, taglio ragioniere, taglio arpette e tecnicamente vi farò vedere alcune tipologie simili cercherò di darvi lo stesso taglio che facciamo con i nostri macchinari che chiaramente tagliamo a tutti i giorni i nostri prodotti non so se si riesce a vedere bene questo è il nostro fior di latte di Napoli che è fatto in salamoia la parte centrale vedete c'è il siero quindi questo siero lo dobbiamo scorporare dal prodotto per far sì che abbiamo una buona pizza quindi va tagliato e va scioglato chiaramente ora taglio una fetta e vi farò vedere i vari tagli che noi di Latteria riusciamo a dare ai nostri clienti in tutto il mondo abbiamo una cosa per dire bene 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 ragazzi grazie 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 ragazzi non so se riuscite a vedere la mia mano è una paletta umana però diciamo questo è il taglio napoli largo e sottile si vede vincenzo questa è una julienne classica questo è un taglio fiammifero vedi molto sottile è lungo tipo a stick come le patatine vedi molto 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 sottile e chiaramente questo è un taglio cubico che facciamo chiaramente questi prodotti qua fanno parte della linea o 100% tale questo qua verde oppure lo stesso prodotto del penisola in acqua lo tagliamo e riusciamo ad avere questi tipologi e taglio a fette taglio a julienne mentre per i prodotti un po più semplici facciamo il taglio a fiammifero o il cubetto per le pezzette e bar per quanto riguarda chiaramente il mondo della rossicceria domande ragazzi allora vincenzo al momento non ci sono domande però ti vorrei fare se posso appunto una domanda io inerente al discorso del fior di latte ti volevo chiedere perché scegliere proprio appunto la tipologia che offre l'azienda latteria sorrentina anziché un'altra cioè dovremmo vedere sia il discorso ovviamente qualitativo che economico giusto quando tu compri l'atteria sorrentina è come compri da un'azienda che ti dà delle indicazioni che in molte aziende ancora oggi non vediamo sull'articina valori nutrizionali indicazioni schede tecniche del prodotto quando nasce quando muore chi lo trasporta il lotto in fattura che è una cosa importantissima che voglio spiegare anche ai ragazzi io faccio anche il commerciale quindi giro tantissimo e ancora oggi mi trova mi trovo in grandi non importanti in determinate attività trovare prodotti che non hanno nel lotto né scadenza non si sa la provenienza non si sa da dove viene il latte quindi quando scegli di lavorare con un'azienda come l'atteria sorrentina hai una serie di garanzie che pochissime aziende oggi in europa riescono a darti sul prodotto cioè la prima cosa è la tracciabilità del prodotto il latte da dove proviene quando è stato trasformato il latte e il prodotto finito la scelta oggi so che è un momento molto difficile ci sono stati tantissimi aumenti come la farina come l'oro anche noi abbiamo aumentato sui latticini ma non perché vogliamo aumentare e divertirci problema un problema serio oggi è quello che abbiamo sul caro gasolo perché tutto quello che noi trasportiamo nelle nostre attività viaggia a sguo chiaramente se il primo viaggio costava mille euro oggi ce ne costa quasi duemila perché gasolo è arrivato a due ore e quindici due ore e venti fino a mesi fa costa 1 euro e 70 quindi il trasporto incide molto sul prodotto ma non solo anche sulla plastica sull'energia rinnovabile e quant'altro ci sono una serie di aumenti che viviamo anche nella nostra vita quotidiana e quindi automaticamente aumentano anche il prezzo del prodotto perché viaggio sguo la scelta di un prodotto va in base anche alla tipologia di impasto che si fa e in base a quanto tempo deve cuocere la nostra pizza nel forno esempio se dobbiamo fare una pizza in teglia in un forno elettrico la mozzarella non la possiamo mettere dall'inizio che è cruda fino alla fine della cottura della pizza e poi presentarla al pubblico perché presenteremo solo una crosta di diciamo una paramellizzazione degli zuccheri perché in due minuti e quaranta un fior di latte anche il migliore che esista al mondo tenderà ad asciugarsi a perdere tutto il siero la sua forza la sua struttura la sua filatura la sua elasticità e andrà a scomparire quasi sulla pizza quindi quando lavoriamo con dei forni elettrici tipo dobbiamo una pizza in teglia questo fior di latte che chiaramente dovrà essere sempre asciugato come vi ho sperato io e trenato dovrà essere messo sulla pizza gli ultimi 50 secondi si calcia fuori la teglia si mette la mozzarella solo 50 secondi di cottura se parliamo di un prodotto di qualità che ha una buona sceglievolezza una buona elasticità una buona espansione sulla pizza ci occorrono 50 secondi e il nostro prodotto è pronto per essere degustato sulla nostra pizza chiaramente se fai un lavoro per esempio per una pizzeria di ascolto non va bene se prendi un prodotto tipo troppo morbido tipo fior di latte di nato è un prodotto di eccellenza che è molto lattiginoso molto elastico molto morbido come prodotto quindi una mescola morbida chiaramente io lo consiglio per una pizzeria a tavola un fior di latte del genere perché riusciamo a degustare tutte le sue caratteristiche tecniche e avere una buona pizza in uscita che arriva al nostro lavoro esempio se noi oggi pensiamo di fare un impasto un polish pensiamo di fare una biga e con un'idratazione dell'ottanta per cente la volevo portare da asporto a casa di una persona quando arriverà con la pizza sarà un gomma masticante quindi anche in base al tipo di lavoro che noi facciamo la tipologia di pizzeria che abbiamo dobbiamo dare un servizio che è la qualità la digeribilità di un prodotto e un prodotto che deve comunque funzionare rispecchiare il gusto dei nostri consumatori quindi anche determinati impasti vanno fatti e manipolati in determinate circostanze e situazioni commerciali se chiaramente facciamo un lavoro di pizzeria di asporto quindi con delivery o non so la nostra pizzeria è proiettata sia sull'asporto che si per i tavoli sulla seduta nel locale facciamo una scelta di un prodotto che non sia né troppo morbido né un troppo duro da immettere sulla pizza io consiglio chi ha asporto e chiaramente a tavola di lavorare con un fior di latte della penisola questo qua che vi ho fatto vedere prima o di lavorare con un ls 500 in carto verde c'è il 100% italia che abbiamo sia la possibilità di scegliere entrambi i tagliati oppure di prenderli a bocce perché sono prodotti un po più asciutti quindi più veloci nella manipolazione anche della pizza perché poi se facciamo tutti i processi che ci siamo spiegati di tagliare il fior di latte di farlo asciugare però mettiamo questo lascone con la mozzarella di trabacco con il caldo dietro del forno il fior di latte essendo un prodotto vivo tenderà a sudarsi a sudare quindi ogni volta che facciamo la pizza e prendiamo la mozzarella siamo possetti ad asciugarci le mani quindi la scelta del prodotto chiaramente societiva in base a un cliente quando vuole spendere e capire anche il gusto e il grado di di prodotto che si vuole raggiungere sì sì ti sento allora vediamo un po' se ci sono delle domande perché si dice che sulla pizza ci va il fior di latte c'è una storia dietro da raccontare allora ti spiego il nostro slogan proprio dice sulla pizza ci va solo il fior di latte lo spiego perché all'estero anche il fior di latte viene chiamato mozzarella di sbagliato perché anche noi facciamo mozzarella sia di vaccino però la mozzarella in generale è un prodotto ricco di siero quindi molto più umido molto più latticinoso quindi quando andremo a tagliare un boccolcino di mozzarella non avremo mai questo aspetto compatto il fior di latte ma avremo un prodotto molto tenero al centro e avremo un prodotto molto umido e molto delicato chiaramente che cosa succede che quando lavoriamo un boccolcino di vaccino abbiamo tantissima umidità quindi lo mettiamo sulla pizza lo mettiamo nel forno e può irrigarci la nostra pizza non cuocerla bene al cielo e avere una fuoriuscita del siero in fase di scioglievolezza del prodotto qua la stessa cosa accade anche con la mozzarella di bufala però ci sono due aspetti importanti nel libro se facciamo tutta la mano la manipolazione del latticino c'è quello di tagliarlo asciugarlo come si deve avere un prodotto asciutto alla sera per fare una bufalina oppure una pizza fatta con mozzarella di vaccino oppure una pizza fatta con un misto bufala possiamo chiaramente metterlo sempre sulla pizza però che cosa avviene? su una pizza dove mettiamo il vaccino abbiamo un prodotto che tenderà ad espandersi velocemente e molto lungo la stessa cosa se mettiamo un boccolcino di misto bufala la stessa cosa se mettiamo la mozzarella di bufala che perderà chiaramente sempre questo siero quindi anche sull'aspetto economico se io compro un pino di mozzarella faccio un esempio che costa 10 euro lo taglio solo nel taglio per 200 grammi di siero vedete che quegli 800 grammi cioè quelli 8 pizze ci costano 12 euro di latticini il fior di latte serve uno per migliorare quelle che sono le aspettative del food cost all'interno della vostra attività due per non avere una resa maggiore sulla pizza cioè mettere più poca mozzarella c'è più poco fior di latte sulla pizza e scegliere un prodotto di qualità che comunque abbia una fase di espansione di elasticità e di rifilatura corretta e tre sconsiglio la mozzarella di bufala in cottura perché quando andiamo a cuocere una mozzarella di bufala rispetto alla mozzarella di vaccino nella fase di raffreddamento la mozzarella di bufala tende a ristringersi e chiaramente aveva un aspetto molto commuso quando la andiamo a masticare io vi parlo sulla mozzarella chiaramente viene colta all'interno del po' io la mozzarella di bufala di vaccino di miss a punto lo consiglio sempre all'uscita della pizza ma non in cottura in cottura per me c'è bisogno del fior di latte o della propola se facciamo ma se cercare allora vado a leggere allora per fine diretta ci può dire rimenditori di zona ad esempio io mi trovo su pescara sì armando se può dire un po' nel senso in generale cioè si trova da non ho capito la domanda ti chiedono se puoi elencare in maniera diciamo un po' esplicita in un certo senso in che zone sono coperte dal 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 poter prendere da poter reperire il suo prodotto allora sicura sicura al cento per cento tutto metro Europa tutti i punti metro ci sono i nostri latticini latte via salventina se parliamo di un'attività che c'è esempio se quotidiano se eh chiaramente è un'attività se è un'attività o una pizzeria che possono interessare i nostri prodotti basta mandare l'email a invogliogruppo punto com e eh trovare chiaramente un distributore di zona che tratta i nostri latticini o essere un canale diretto con l'azienda e eh far sì che chiaramente si mettano in comunicazione per gli scarichi e quant'altro ok perfetto allora noi abbiamo già i depositi Roma, Milano, Torino, Bologna e eh chiaramente Pescara eh dobbiamo dire se c'è qualche distributore che compra da noi è chi fa la zona eh dell'Abruzzo o della distribuzione in abruzzo. Siamo un'azienda molto grande capitale con chiaramente vari distributori anche in Spagna, in Francia, Dubai, Cina, Corea. Ti chiedono se online avete anche un distributore? Dobbiamo chiaramente avere le notizie scritte a me dall'azienda e poi c'è una persona che è addetta a questo e vedete la logistica è chiaramente il distributore più cucinato che si può venire a sedere. Queste sono notizie che vengono mandare le mie indizie. Ok perfetto. Allora Gaetano se non ci sono scusami Vincenzo se non ci sono altri io perché leggo sempre Gaetano sul sul nome del del profilo quindi mi sfugge sempre il nome. Allora Vincenzo se non ci sono allora eccolo qui un'altra domanda. Io uso il fior di lette a cubi della latteria solentina in Polonia. Abbiamo deciso a cubi dopo varie riflessioni. Cuociamo la nostra pezza a 400 gradi. È stata una scelta corretta? Se si trovi bene e il prodotto si sceglie bene e ti dà il tuo requisito penso che avrai scelto un prodotto che è giusto altrimenti non staremo ancora a servirgli. Puoi scegliere anche Giuliani non solo il cubetto poi un aspetto visivo estetico che è soggettivo. Chiamano più Giuliani poi ci chiamano più il cubetto. Però non renderla più originale perché anche questo è dato dell'azienda e mantenersi fedele alle origini alla tradizione del fior di lette. Uno è libero di scegliere il taglio se deve essere pubblico o Giuliani. A me chiaramente piace più l'agile di scegliere su un'azienda. Ok. L'artistico. Allora Vincenzo, io penso che comunque sia stato abbastanza esplicito e molto limpido ciò che appunto hai spiegato e detto durante questo webinar. Tutto ovviamente è rimasto nella registrazione quindi sarà visibile tranquillamente su YouTube. Se non ci sono altre domande ragazzi io diciamo che a me Vincenzo io già lo conosco fondamentalmente so che nell'espiegazione lui è completo ed è esaustivo già di suo in un certo senso. Cioè provarmi la domanda è abbastanza... Armando è veramente totalmente diverso vedersi in un monitor e sentire i profumi della nostra terra, dei nostri prodotti da vivo. tu sei stato uno dei primi a degustare i nostri prodotti e ci vuole dare la conferma di quello che ci siamo detti in questo piccolo frangente di tempo. Allora io vi posso dire che durante i corsi sia master istruttore che di specializzazione ogni qualvolta Vincenzo portava i suoi prodotti e li faceva assaggiare finivano. Ma c'erano le vizie senza fior di latte. Il presidente dice Vincenzo è fior di latte tanto che l'ho portato se lo sai mangiare a più. L'hanno fatto le vizie. No io a nome dell'Accademia appunto come direbbe anche il presidente siamo veramente contentissimi di avere un'azienda forte, un'azienda reale, soprattutto un'azienda artigianale a livello veramente alto. Detto questo Vincenzo io se per te va bene posso concludere il webinar facendo anche i saluti. Ti ringrazio Vincenzo della partecipazione e della spiegazione. Ragazzi il video sarà pubblicato su YouTube, la registrazione mi raccomando lasciate un bel like e un commento. Noi ci vediamo al prossimo appuntamento webinar, restate aggiornati seguendo il profilo dell'Accademia Nazionale Pizza Doc. Fate story sui vostri canali social, fatemi sapere cosa ne pensate del webinar. Io ringrazio Vincenzo, ringrazio tutti quanti per la partecipazione, fateci sapere tra i commenti cosa ne pensate su YouTube e noi ci vediamo al prossimo webinar. Grazie a tutti.